istat da 90 anni connessi al paese le tappe fondamentali della storia dell'istituto attraverso i tre percorsi del virtual tour la storia dell'istat una lettura dei momenti fondamentali che hanno legato l'istat alla storia del paese narrare il paese il racconto di come è cambiata l'italia dal 1926 al 2016 censimenti la storia dell'evoluzione dei censimenti entra nel virtual tour della mostra storica dell'istat www.istat.it